Notte nazionale del liceo classico, anche l'Istituto Filelfo di Tolentino partecipa ormai da quattro anni a questo evento di carattere nazionale. Qui con noi la dirigente scolastica dell'Istituto Santa Zenobi con cui parliamo appunto di questa serata che vede protagonisti, docenti e studenti insieme. Sì, questo nostro liceo è un liceo molto vivo, piccolino ma vivissimo, vivissimo e resistente nonostante ci abbiano un po' fracassato col terremoto. È un liceo che ha una grande creatività e ha un legame con il teatro, con le espressività esterne, insomma ha un legame molto forte anche col territorio e i ragazzi e le famiglie hanno contribuito a realizzare insieme ai docenti questi spettacoli e questa serata è un po' una serata che vuole dare un segno di continuità con il passato ma anche di rinascita, tant'è vero che gli indirizzi che la scuola presenta sono diversi, innovativi e quest'anno presentiamo anche il liceo della comunicazione che quindi ha un legame forte con la comunicazione, con l'innovazione e cerchiamo di mandare avanti l'Istituto in questa forma. Claudia Canestrini è la docente di italiano e latino dell'Istituto Filelfi. Cosa rappresenta questa serata per il vostro Istituto? Per il nostro Istituto è una serata importantissima perché oltre ad essere una vetrina che fa vedere alla popolazione, agli studenti quali sono le nostre attività, quali sono le nostre peculiarità e soprattutto la creatività che scaturisce dal nostro percorso di studi che è proprio il fiore all'occhiello del liceo classico di Tolentino, è un momento di coesione, un momento di entusiasmo da parte di tutti gli studenti in cui si mettono in scena i vari talenti e in cui si esprimono gli aspetti fondanti della nostra cultura e in cui anche ci divertiamo perché uno degli elementi fondamentali di questa notte è proprio far divertire i ragazzi, creare spirito di corpo, creare spirito di squadra e sentire il loro entusiasmo per noi è il più grande ringraziamento. Poi chiaramente all'interno di questa notte vengono espressi i valori dell'antico e quanto questi valori siano attuali per la cultura moderna, quanto siano fondativi per la nostra civiltà occidentale. Ospite d'eccezione di questa sera il giornalista Luca Pagliari che ha intrattenuto tutti i presenti questa sera con una tematica davvero interessante dedicata in gran parte al cyberbullismo. È stato scelto di dedicare questo momento il peso delle parole. Che importanza hanno soprattutto per le giovani generazioni? Le parole hanno importanza da quando abbiamo diritto alla parola, quindi la comunicazione è ovviamente la base di tutto. Le nuove tecnologie hanno aumentato la responsabilità e il peso delle parole naturalmente in quanto la divulgazione è diventata molto più ampia e da anni uno dei miei obiettivi come giornalista è realizzare docufilm, campagne nazionali che parlino di tematiche giovanili e tra questo ovviamente c'è anche un discorso legato all'utilizzo corretto della rete. La rete che non è né buona né cattiva né bella né brutta è una pagina bianca su cui possiamo scrivere cose molto belle o anche cose molto brutte.